Sembra difficile a credersi, ma a Ragusa, nelle ore serali, Vio Carducci risulta essere a due velocità, come la definisce il presidente dell'Associazione Politico-Culturale Ragusa e Movimento, Mario Chiavola. Cioè una parte della strada è illuminata, mentre l'altra è al buio. Dopo le continue segnalazioni sulla questione da parte dei residenti e dei negozianti, ancora una volta Chiavola denuncia un problema facilmente risolvibile, ma a quanto pare difficile per l'amministrazione. Un problema che, secondo il consigliere, deve essere risolto al più presto, perché la via in questione rappresenta uno dei tratti principali della città, per chi parte dall'incrocio con via Archimede e arriva sino alla stazione degli autobus di Piazza Zama. Un'associazione incredibile perché da un lato, cioè il tratto che da via Archimede conduce a viale del Fante, la via Carducci, è regolarmente illuminata, dall'altro il tratto di cui stiamo parlando è costantemente senza luce. Per Mario Chiavola sarebbe necessario ripristinare più presto l'illuminazione, precisando che non si tratta di una zona periferica della città, ma di una via centrale. I cittadini della zona, ma anche gli automobilisti che transitano lungo l'arteria stradale in questione, hanno tutto il diritto di potersi muovere senza difficoltà di alcun tipo durante le ore serali e notturne. Grazie. Grazie. Grazie.